Il comune di Agropoli continua a puntare sul fiume Testene e questa volta lo fa con un importante protocollo d'intesa firmato con le guardie ambientali del coordinamento provinciale di Salerno di Era Ambiente, associazione di volontariato. Con questo accordo fra i due enti, l'obiettivo comune sarà la realizzazione di un progetto di tutela e conservazione della fauna e della flora autottona del fiume che attraversa la cittadina agropolese. Era Ambiente andrà a fornire attività di supporto secondo le indicazioni della polizia locale riguardo soprattutto ai disagi dovuti all'abbandono di rifiuti lungo le sponde del Testene, problema che più volte è segnalato dalla nostra emittente. Inoltre i volontari effettueranno anche interventi riguardanti l'attivazione di protezione degli animali, controllo sull'igiene pubblica ed ambientale e saranno autorizzati ad attuare piccoli interventi di manutenzione ordinaria intesa come taglio erba e pulizia delle sponde senza alterare l'assetto idrogeologico del fiume Testene.